Durante l'ultima riunione della giunta comunale di Agropoli, il sindaco Adamo Coppola ha posto l'attenzione sull'adesione per la realizzazione del sistema bibliotecario Pestum Alto Cilento dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento. Come sappiamo, Agropoli fa parte dell'Unione dei Comuni del Cilento che a sua volta riveste un ruolo centrale sia nelle politiche a supporto della crescita e della promozione territoriale sia nello sviluppo delle imprese e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Il Comune di Agropoli punta da anni alla valorizzazione della cultura e in particolare alla lettura come valore riconosciuto e condiviso che contribuisce a sostenere la crescita socio-culturale dei suoi cittadini e della comunità tutta, motivo per il quale intende valorizzare la biblioteca comunale, aderire al sistema bibliotecario Pestum Alto Cilento, può rappresentare per l'ente un'opportunità importante, poiché lo scopo è quello di mettere in rete tutte le biblioteche comunali, le biblioteche scolastiche e le biblioteche private presenti sul territorio dell'Unione al fine di attuare una cooperazione bibliotecaria, garantendo l'integrazione, la diffusione dei servizi e delle risorse librarie e documentarie esistenti. La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ma tenendo conto dei benefici che ne deriveranno per l'intera comunità.